A Bagno Cavallo si affrontano due squadre che devono dare una risposta al torneo. Da una parte i padoni di casa alla ricerca dei tre punti, dall'altra il nuovo affilta che vuole riscattare la sconfitta interna avvenuta contro i Bellaria, ma confermare nei contempo quanto di buono fatto vedere alla prima in esterna sul campo del Fosso Ghaia. Endai alza subito la voce mettendo al centro questo pallone, Capirossi seguendo il cognome, segue velocità e compagno ma non impatta come vorrebbe. Ma gol sbagliato, scatta nel calcio la classica regola. Non a caso dall'altra parte, al primo vera a fondo, il nuovo affilta passa. I tioni di Filippo non appare irresistibile, ma Mazzotti non trattiene la sfera permettendo al Giaguaro Muratori di eseguire i tappi vincente per lo 0-1 ospite. Tre minuti più tardi di nuova affilta con Alducci direttamente a calcio piazzato, sigli 2-0, ma l'arbitro annula la rete, forse per una trattenuta ad opera di Mezgur al momento della battuta del centocampista di nuova affilta. Da rivedere. Gli ospiti però non si abbattono, anzi eseguono l'azione fotocopia in occasione del primo gol, quando Di Filippo si ritrova nelle condizioni di battere la rete, ma la palla si perde a lato. Capirossi sul versante opposto a calcio piazzato sfiora l'incrocio dei pali. Finale di tempo di marca bianco-rossa, ma la conclusione di Bucci viene bloccata in due tempi dall'ottimo Batani. Mezgur invece dall'altra parte, direttamente a calcio piazzato, prova a insediare la porta di Marzotti. L'ultima azione del primo tempo porta questo inserimento in area avversaria del bagno-cavallo, che in ben due tentativi non riesce a colpire e dare forza al pallone. Squadra riposta sullo 0-1. Nella ripresa, Muratore ancora la ricerca della miglior forma, sforna il suo colpo migliore, ma senza fortuna. Invece dall'altra parte, Indai, indemoniato, sfiora la marcatura. Rinaldi prova a far rispirare i suoi, ma da calcio piazzato non inquadra lo specchio della porta, come del resto Mezgur, che riesce a girarsi, ma calcia alto. Chi rischia invece di firmare il pareggio è greco, ma il numero 9 non riesce a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Quando Indai sembra avere campo libero, Cappella, per fermarlo, rimede il secondo giallo, lasciando la squadra in dieci uomini. Della conseguente punizione se ne occupa Bucci, ma la sfera è alta. Ma quando il pareggio sembra fatto, Sigani trova la traversa, negali la gioia dei gol. Il nuovo affetto a questo punto si copre. Indai cerca l'arma dei contropiede, ma il pallonetto a Batani proprio non riesce. E quando Barducci invece esce dalle proprie retrovie, il tio del centrocampista non è dei migliori. Indai a questo punto, indemoniato, continua a correre dannatamente, ma senza incidere. Prima che al 95esimo il traversone di Marilungo venga deviato in fondo alla rete, ma l'arbitro annulli per fuori gioco, decretando a questo punto la fine del gioco con il nuovo affetto che si impone per una rete a zero sul campo del bagnacavallo.